Milano Pavia News Lezioni interrotte e una classe evacuata Lunedì mattina la scuola media Besozi di Vigevano Uno studente avrebbe spruzzato dello spray al peperoncino Diversi gli studenti intossicati Regione Lombardia promette nuovi fondi per il recupero della ex SNIA Pavia Previsto un contributo economico di circa 800 mila euro Per procedere con il piano di caratterizzazione dell'area Dai comitati per il Nopart un nuovo appello per fermare il progetto del parco eolico Sull'Appennino al confine tra oltre poi Piacentino La conferenza dei servizi si chiuderà il 22 giorno Doppio rinnovo sulla panchina della ELA che in Vigevano per la prossima stagione Dopo la salvezza di quest'anno sono stati confermati Il capo allenatore Lorenzo Pansa e il primo assistente Lorenzo Bruno Questi titoli della giornata in apertura una notizia di cronaca Si è verificata una sparatoria poco dopo le 18 in via Gravellona a Vigevano La situazione è ancora in evoluzione Ci sarebbe un ferito che è stato trasportato in codice giallo all'ospedale cittadino Sul posto per noi c'è Paolo Barni Cercheremo di darvi maggiori chiarimenti proprio su questo episodio decisamente violento Vicino al centro della città per capire anche cosa abbia scatenato appunto questa sparatoria Torneremo come detto però nel corso del telegiornale ad aggiornarvi su questa notizia Ci spostiamo a Pavia dove invece di ben altro tenore le preoccupazioni per i residenti del quartiere di Borgo Ticino Perché c'è un camper che da alcuni giorni staziona all'interno di un parcheggio Si sentono liti e urla anche con minacce di morte Sentiamo Urla e litigi nel cuore della notte, timori per la sicurezza ed il decoro del quartiere Da qualche settimana la situazione nel tratto finale di via dei Miglia a Pavia è divenuta insostenibile Per la precisione da quando un camper ha deciso di stabilirsi nel parcheggio dell'area Landini All'interno vive un'intera famiglia, probabilmente del sud Italia Se durante le ore del mattino, come abbiamo potuto constatare direttamente Queste persone restano sigillate all'interno del mezzo Diversa è la situazione nel cuore della notte, come documentato dai residenti Io ti ammazzo urlato due volte e non sono mancati episodi di violenza Come spiegato da alcuni residenti del complesso Landini Situato proprio di fronte al posteggio Cittadini che hanno preferito non mostrarsi in volto per motivi di sicurezza Un esempio recente è quello di questa settimana Di due o tre giorni fa, verso le tre di notte mi sono svegliato E ho sentito schiamazzi sempre più insistenti, sempre più forti E ho capito che si trattava di una rissa O comunque sia di una situazione non idonea A un posto che si possa rispettare E quindi ho deciso tempestivamente di chiamare le forze dell'ordine Ci sono due minori in età scolare che bivaccano tutto il giorno nel parcheggio E siamo tutti molto preoccupati anche per una questione di sicurezza delle nostre famiglie Lunedì pomeriggio mio figlio alle tre è rientrando Assistito ad una rissa tra di loro Abbastanza violenta in cui era convolta anche una delle due signore La sosta, come accertato dai vigili autori di un controllo, sembrerebbe regolare Il problema quindi resta e la preoccupazione cresce Anche per alcuni movimenti sospetti notati da diversi residenti Senza dimenticare i problemi di decoro del quartiere La cosa ci preoccupa perché abbiamo visto anche girare macchine E abbiamo paura che diventi un punto di ritrovo Casomai per altre persone che vivono nelle loro condizioni Questa non è una piazzola di sosta adibita per il parcheggio dei camper E non sappiamo appunto dove vanno a scaricare e fare gli scarichi Insomma, in più ho visto che un giorno un signore si è cambiato E ha buttato i vestiti dietro al muretto Il problema non riguarda soltanto i residenti del complesso Landini Ma anche di Via dei Mille Il timore è inoltre che l'insediamento possa ulteriormente allargarsi Questi signori di giorno dormono e di notte non fanno dormire noi Perché continuano a fare schiamazzi Addirittura si sente urlare Tu uccido, aiutate, chiamate le polizie Tutto, noi come residenti in queste zone qua Siamo leggermente stufi perché di notte non vorremmo dormire Lunedì mattina è scattato un allarme all'interno della scuola media Besozi di Vigevano Perché un ragazzo ha spruzzato uno spray urticante Ci sono stati diversi intossicati Allora sentiamo il resoconto della mattinata nel servizio di Gaia Dalla Momenti di panico nella mattinata di lunedì Alla scuola media Besozi di Vigevano Dove qualcuno avrebbe spruzzato lo spray al peperoncino I soccorsi sono arrivati davanti all'istituto di Via Giusto Traversa di Viale dei Mille Poco prima delle 10 Chiamati per un'intossicazione Secondo le prime ricostruzioni La bomboletta sarebbe stata portata a scuola da una studentessa Lo spray sarebbe successivamente finito tra le mani di un compagno Che avrebbe spruzzato il contenuto pericoloso Lo studente non avrebbe riconosciuto l'etichetta della bomboletta E l'avrebbe spruzzata credendo che non contenesse materiale tossico L'azione avrebbe immediatamente provocato malesseri a una decina di persone Tra alunni e docenti Gli studenti coinvolti hanno un'età compresa tra i 12 e i 13 anni Sul posto sono intervenute un'ambulanza della Croce Rossa di Mortara Un'ambulanza della Croce Azzura di Vigevano E un'automedica I soccorritori hanno assistito sul posto le persone coinvolte Sono stati inoltre allertati i genitori dei minori Che sono accorsi a scuola per portare i figli a casa una volta visitati Nessuno di loro comunque sarebbe grave E parlando di scuole invece quelle di San Genesio Continuano a rimanere chiuse ormai da mesi Per effetto dell'indagine clean Come vi ricorderete Sabato c'è stata una nuova protesta dei genitori Per chiedere quale sarà il futuro delle scuole Sono tornati a manifestare alcuni genitori di San Genesio Per chiedere certezze sulla riapertura della scuola del paese Sotto sequestro dal 23 novembre dello scorso anno Dopo l'esplosione dell'inchiesta clean In cui si è indagato su presunte irregolarità nei lavori di ristrutturazione La manifestazione è andata in scena nella giornata di sabato E ha visto la partecipazione di un centinaio di persone Tra loro anche alcuni bambini che hanno scritto con i gessetti sull'asfalto Rivoliamo la nostra scuola Lo slogan riportato in uno striscione era Pesiamo poco come le vostre coscienze Il riferimento era una frase contenuta in una delle intercettazioni telefoniche Oggetto dell'indagine In cui uno dei responsabili della ditta a cui erano stati appaltati i lavori Affermava i bambini pesano poco Mentre discuteva della possibilità di utilizzare delle travi forate Meno resistenti Invece delle travi piene previste nel progetto La scuola è ancora sotto sequestro Perché i tecnici incaricati della procura Devono ancora ultimare le verifiche Per comprendere se queste sono state solo delle parole O se invece si siano effettivamente realizzati i lavori in difformità Rispetto al progetto È stato chiesto il rinvio a giudizio per il primario del San Matteo di Pavia Che si sarebbe reso responsabile di alcune molestie Ai danni di alcune specializzande I fatti risalgono ad alcuni anni fa Ma sono diventati noti Solo negli scorsi mesi È stato chiesto il rinvio a giudizio per il primario del San Matteo di Pavia Accusato di aver molestato 11 specializzande durante i corsi universitari Il medico è indagato per violenza sessuale aggravata dall'abuso di autorità I fatti risalgono al biennio 2019-2020 Quando l'uomo era direttore di una scuola di specialità Le specializzande, rispondendo ai questionari anonimi dell'università Avevano scritto di essere state vittime di palpeggiamenti E di altre situazioni in cui il docente superava i limiti Nei mesi successivi era scattata un'indagine interna dell'Ateneo Che però si era chiusa con l'archiviazione Una relazione sul caso era stata in seguito inviata alla procura Che aveva avviato le indagini Il primario nel frattempo si era dimesso dalla guida della scuola di specialità Ma era rimasto a lavorare in policlinico Delle 11 ormai ex specializzande che avevano accusato il medico Solo una ha presentato una denuncia formale contro di lui Nei giorni scorsi dunque La PM Valentina De Stefano ha inviato al giudice per le indagini preliminari Una richiesta di rinvio a giudizio L'udienza si terrà il 25 giugno e in quella data Le parti offese potrebbero costituirsi parte civile Spetterà però al GIP decidere se far partire il processo O prosciogliere il primario dalle accuse Restiamo a Pavia dove nel pomeriggio di lunedì L'assessore regionale all'ambiente Maione Ha annunciato che Regione investirà nuovi fondi Per il recupero della ex snia Circa 800 mila euro per redare il piano di caratterizzazione Un contributo economico di poco meno di 800 mila euro Per procedere con la caratterizzazione della snia Comprendere il livello di inquinanti E mettere in campo le dovute risposte E l'annuncio dell'assessore regionale all'ambiente Giorgio Maione che nel pomeriggio di lunedì Ha effettuato un breve sopralluogo all'interno dell'area di smessa La fetta più grande del finanziamento Sarà garantita proprio da Regione Lombardia Che su richiesta del Comune di Pavia Ha inserito la caratterizzazione della snia Quale intervento prioritario? E con un contributo di 675 mila euro A cui si unirà quello del Comune Circa 100 mila Saremo in grado di fare Di mettere a disposizione queste risorse entro l'estate Per poter procedere a questa verifica Questa è la base per poi fare delle scelte sulla bonifica E quindi sapere esattamente come intervenire È la base per la futura rigenerazione urbana di questo territorio Il progetto di recupero della snia si trascina ormai da anni senza successo Nelle scorse settimane l'ennesima asta è andata a vuoto Nonostante l'ultima base fosse di appena 1 milione 100 mila euro Per un'area di poco superiore ai 100 mila metri quadrati In Viale Montegrappa Nel pieno della sua attività La snia poteva contare su mille dipendenti circa Ma si trova in questa situazione di abbandono Ormai da quasi 40 anni La prima asta per la sua vendita risale al novembre del 2021 Con una base di 6 milioni di euro Nonostante il prezzo sia letteralmente crollato L'area di smessa non è stata ancora giudicata In Lomelini invece spunta il progetto per una nuova logistica A San Nazaro de Burgondi Un progetto che sarebbe però vincolato Alla creazione del famoso casello autostradale Spunta l'ipotesi di una nuova logistica in Lomelina Per la precisione a San Nazaro de Burgondi Vicino la tangenziale nord Un'ipotesi che ha preso corpo Dopo che nelle scorse settimane Era stata ufficializzata l'intesa tra la provincia E i comuni della bassa Lomelina Sulla realizzazione del casello autostradale A7 A Pieve Albignola La logistica condizionata alla nascita del casello Sorgerebbe su una superficie complessiva Di circa 600.000 metri quadrati Pare a una sessantina di campi da calcio L'opera verrebbe realizzata La frazione Cascinotto-Mensa di Pieve Albignola Distante poco più di 7 chilometri Dal sito interessato dalla logistica Per quanto riguarda la costruzione Il casello autostradale A7 a Pieve Albignola L'ultima parola spetterà Al nuovo consiglio di amministrazione di Milano-Serravalle La società concessionaria dell'opera Consiglio che dovrà tenere conto Delle pressioni esercitate dagli amministratori del territorio Che da anni insistono sull'opera La logistica San Nazaro Verrebbe incontro alle realtà produttive del territorio Che troverebbero uno sbocco viabilistico in zona In un territorio carente di infrastrutture Ma far discutere è il fatto che l'insediamento Sorgerebbe su terreni prevalentemente coltivati da riso e mais Stando a quanto si apprende I proprietari terrieri sarebbero già stati contattati Da un'impresa bergamasca incaricata Non è la prima volta che in provincia di Pavia C'è dibattito sull'opportunità o meno Di realizzare nuove logistiche Di recente si è tornati a parlare Di un polo logistico all'area ex record Sulla strada tra Garlasco e Groppello Cairoli Un vecchio piano di lottizzazione Che non è mai terminato Per la crisi del settore edilizio Opera che genera dibattito Tra chi è favorevole a nuovi insediamenti Produttivi sul territorio E chi invece sottolinea i rischi di inquinamento Legati al traffico di nuovi mezzi Nel centro abitati Ed è un progetto che probabilmente farà discutere Uno che sta già facendo discutere Quello del parco eolico Al confine tra Oltrepò e Piacentino Sull'Appennino I comitati del NO hanno lanciato Un nuovo appello per fermare l'opera Un appello a tutti i comuni coinvolti Alle province di Pavia, Alessandria E alle regioni Piemonte e Lombardia Perché facciano sentire la propria voce Prima della chiusura della conferenza dei servizi Il prossimo 22 luglio Presso il Ministero dell'Ambiente E quello che sarà diffuso nelle prossime ore Dal Comitato delle quattro province E dalle associazioni collegate Nella nuova battaglia Contro il progetto diolico industriale Previsto sui crinali Fra le valli Staffora e Curone Anche perché Sebbene nei giorni scorsi Lo stesso Ministero Nell'ambito della conferenza Stato-Regioni Abbia sostanzialmente Dato il via libera Alle nuove linee guida Per questo tipo di impianti Che porrebbero in questo caso un veto sul progetto In quanto interessa aree protette Dalla cosiddetta legge Galasso A tutela del paesaggio Esse non sarebbero retroattive E non andrebbero Quindi, secondo le interpretazioni attuali A incitere sul discusso parco eolico Secondo quanto emerso il progetto Non molto diverso Da quello presentato attorno al 2011 E che era stato cassato A causa di un vincolo di inedificabilità dei crinali Prevede l'installazione di 20 pale eoliche Alte circa 200 metri Per una potenza totale di 124 MW A differenza del primo progetto Tutte le pale in questo caso Dovrebbero sorgere fra le valli piemontesi Curone e Borbera Ma essendo praticamente al confine Con la valle Staffora La viabilità di cantiere Potrebbe interessare per svariati chilometri Anche la provincia di Pavia Coincidendo in parte Con il famoso tracciato escursionistico Della via del Sale Che da Varzi porta a Genova La politica adesso Con un nuovo ingresso Tra le fila dell'opposizione A Vigevano In consiglio comunale Marco Vassori È infatto il nuovo consigliere comunale Del Partito Democratico Sentiamo allora Le sue parole Nell'intervista di Andrea Sicuro Recuperare e completare In tempo utile I progetti del PNRR Il piano nazionale Di riprese e resilienza Un treno Che la città di Vigevano Non può permettersi di perdere Più in generale Restituire una città A misura di giovani anziani Con nuove strutture di aggregazione E attenta Alle esigenze delle persone Questo è quanto Serva Vigevano Secondo Marco Vassori Il nuovo consigliere comunale Del PD Che ha appena fatto Il suo ingresso Tra i banchi dell'opposizione Vassori Vice segretario Del Partito Democratico Cittadino Ha voluto citare In suo intervento L'illustre con cittadino Lucio Mastronardi E rivolgere Un appello alla maggioranza Quello di non bocciare Ogni idea Della minoranza Come è fatto fino ad oggi Secondo l'esponente Dem Speriamo che questo luogo Non sia un luogo Grigio e sordo Un bivacco di manipoli Ma che diventi Un luogo invece aperto Di vero confronto Dove possiamo Lavorare seriamente A una rinascita Di Vigevano Partendo dal concetto Che fosse Lucio Un nostro concittadino Del passato Ci ha lasciato E cioè Quello di mettere Al primo posto La persona E occuparci di loro Sempre cercando La speranza All'interno di Vigevano E non più All'esterno Sperando che qualcuno Venga a salvarci La sfida ora È rappresentata Dal PNRR A Vigevano Per cui Alcune opere Viaggiano in ritardo Come ad esempio La nuova scuola materna La frazione Piccolini Per cui i lavori Non sono ancora incominciati La scadenza dei finanziamenti È prevista Entro la fine del 2026 Serve quindi Accelerare Noi siamo La città più grande Della Lomellina Dobbiamo essere Un faro di riferimento E ad oggi Questi progetti Ancora Lattitano Sui tavoli E le strutture Devono essere Ancora completate Deve essere Sicuramente Il nostro obiettivo Quello di essere Al massimo D'aiuto Per poter arrivare A un traguardo Che Faccia risorgere La città E L'economia Che poi Tornerà utile Sicuramente Ai giovani Agli anziani Alle persone in difficoltà A tutto il territorio Mancano Campi da gioco Liberi Per i ragazzi Che non hanno punti di ritrovo Mancano Centro di aggregazione Manca l'educativa Di strada Quella che va a raccogliere I ragazzi E i bisogni dei ragazzi E dal quale nascono Nuovi progetti Ma soprattutto Non è semplicemente importante Mettere un'altalena O un campo da basket È importante Il concetto Che sta alla base Quello cioè Studiare il territorio Capire il quartiere Capire le esigenze E creare Nuovi interventi E sperimentazione Torniamo adesso Sul flash di cronaca Che vi avevamo annunciato A inizio telegiornale Questi colpi Di arma da fuoco In via Gravellona A Vigevano Dovrebbe esserci Collegato sul posto Con noi Paolo Barni Che è arrivato Alcuni minuti fa E che insomma Ha cercato di capirne Di più sulla situazione Buonasera Paolo Sì esatto Buonasera La questione è ancora In corso Quindi in questo momento Le informazioni Che vi posso dare Non sono Non sono molte Anche perché È ancora tutto In fase di svolgimento Come potete vedere Ci sono sul posto Sia le pattuglie Della polizia Che quelle dei carabinieri Ancora tra l'altro Non sappiamo poi Chi avrà in carico L'indagine Ci sono stati Dei colpi Da arma Da fuoco Attorno alle 6 Di oggi pomeriggio Qui siamo all'inizio Di via Gravellona Avvigevano Zona Santa Giuliana Per Per intenderci Chi abita Quattorno È stato detto Di barricarsi in casa Così hanno fatto La cosa è andata avanti Per circa Una mezz'ora E poi la situazione Si è Tranquillizzata Che cosa sappiamo Che c'è una persona Di 56 anni Che è stata portata In ospedale In codice giallo Quindi In condizioni Non gravi Però Questo è il momento Quello che sappiamo Anche perché l'ambulanza L'abbiamo vista passare Che cosa può essere successo All'interno E all'esterno Della casa gialla Che vedete Alle mie spalle Ancora Non è dato Di sapere I residenti Qui Dicono di aver sentito Chi uno Chi tre spari Sicuramente Uno sparo C'è stato Ci sarebbe stato Anche Una persona Che poi Sarebbe stata Sarebbe stata Fermata Però Non siamo veramente I condizionali D'obbligo Perché al momento Quello che vi posso dire Con certezza È che c'è stata Una sparatoria In questo inizio Di via Gravellona Che continua A rimanere Chiuso E che c'è Un ferito Di 56 anni Queste sono le cose Certe Tutto il resto Ovviamente È ancora Da approfondire Perché è tutto In fase Di svolgimento Per il momento È tutto Ma credo che Passerà ancora Qualche ora Prima che Si riesca Veramente A capire Che cosa Che cosa Sia successo Quello che vi posso dire Che la situazione Adesso è tranquilla Nonostante Se sia ancora Un grande spiegamento Di forze Dell'ordine E la strada Resta chiusa Grazie Grazie a Paolo Barni Ovviamente È una notizia Che approfondiremo Nel corso Delle prossime Edizioni Del nostro Telegiornale Adesso ci spostiamo Cambiamo decisamente Argomento Ci spostiamo A Portalbera In Oltrepò Dove L'amministrazione Comunale Ha dato il via Ai lavori di recupero Del centro sportivo Un punto di ritrovo E aggregazione Per i giovani Le famiglie E gli anziani Per un piccolo comune In alcuni casi È davvero importante Ne ha convinta L'amministrazione Di Portalbera Che ha appena Dato il via A lavori di recupero Del bar Del centro sportivo Con l'intenzione Una volta sistemata La struttura Di bandire un concorso Per la sua gestione Durante la bella stagione Ci sono più strutture Abbiamo una tenso struttura Che è una palestra Di grandi dimensioni Abbiamo una sala Polifunzionale Che noi utilizziamo Sia per i nostri eventi Di presentazione di libri Ma anche del concorso Di letteratura E diamo anche Come disponibilità Ai nostri ragazzi Di Portalbera Che vogliono fare Un compleanno Così insomma Piccole cose Però rendiamo disponibile Anche alla popolazione Poi c'è Questa bellissima Parte di giochi Che sono aperti A tutti quanti Stiamo facendo La ristrutturazione Di questo bar Che abbiamo alle spalle Che consentirà Anche alla gente Di poter usufruire Di quei piccoli servizi Che sono il caffè Il gelato Insomma Tutte queste cose Che sono Un altro punto Al servizio Della zona E della popolazione Stiamo come dicevo Ristrutturando Questo bar Che aveva bisogno Di una manutenzione Straordinaria E pensiamo Entro La metà del mese prossimo Di poter essere Pronti Per poter Diciamo Riaprire Chiaro Che dovremmo fare Una gestione Una manifestazione Di interesse Una gestione Del bar Aperta A tutti quanti Per cui stiamo Organizzando Anche questo aspetto Per poter essere Pronti Diciamo Da metà stagione In avanti E poi per i prossimi anni Nei mesi scorsi Nel centro sportivo Erano state bonificate Le ultime coperture In cemento amianto Presenti Ed è prevista ora La messa in funzione Di un nuovo impianto Fotovoltaico Per rendere la struttura Autosufficiente Anche dal punto di vista Energetico A Mortara Dovrebbe venire Approvato E votato Entro la fine dell'estate Il PGT Il piano di governo Del territorio Prevista la riqualificazione Di alcune aree dismesse Tra cui l'ex Fabbrica Marzotto E l'ex azienda Meccanica Zarini Più spazio Per le attività produttive E attenzione Al recupero Delle aree dismesse Questi contenuti principali Previsti nel PGT Il piano di governo Del territorio Lo strumento Che regolerà Lo sviluppo urbanistico Di Mortara E che sarà votato In consiglio Entro la fine Dell'estate Un piano Che si pone Tra gli obiettivi Quello di migliorare La città di Mortara A partire Dalla riqualificazione Delle aree dismesse L'ex fabbrica Tessile Marzotto In via Lomillina Non lontano Dalle scuole medie E l'ex azienda Meccanica Zarina In strada pavese Due obiettivi Non semplici Da raggiungere Dato il prolungato Stato di abbandono Di due edifici Chiuse ormai Da più di vent'anni Ma che rappresentano Ad oggi Una ferita ancora aperta Per due luoghi Simbolo Della città di Mortara La giunta Ha spiegato Che nel PGT Si punterà maggiormente Sulle aree verdi E sullo sviluppo Di una mobilità sostenibile Con più piste ciclabili Tradotto Meno cemento Del suolo Senza però Trascurare Il recupero Degli edifici esistenti Come appunto La Marzotto E le Zarine Tra gli interventi Previsti nel piano Di governo Del territorio C'è anche la creazione Di un parcheggio Dedicato Ai pendolari Nel quartiere Di San Pio X E un'area Per la sosta E il transito Delle corriere Si pensa infine A un sottopasso Nell'area Della stazione Ferroviaria E che colleghi Con la diacente Via De Cantiano Il voto Sul piano Del governo Del territorio In consiglio È previsto Entro il mese Di luglio Chiudiamo con lo sport Il basket Con una doppia conferma Che farà felici I tifosi Giallo-blu La Elachem Ha confermato Il capo allenatore Lorenzo Pansa E il suo assistente Lorenzo Bruni Doppia conferma La squadra Del prossimo anno A fianco avrà ancora Lorenzo Bruni Come assistente I due operano insieme Ormai da parecchi anni E continueranno quindi Questa avventura Vigevanese Una novità invece Aspetta i Ducali Dietro la scrivania Arriva da Oleggio Il nuovo direttore sportivo Daniele Biganzoli Che avrà il compito Di fare da tramite Tra la squadra E la società Nel frattempo Il campionato Non è ancora finito Martedì sera Partirà la serie Tra Cantù e Trieste Per decidere Una delle due promosse In A1 I Brianzoli avranno Il fattore campo a favore E già sull'1-0 Per Trapani Invece l'altra finale Promozione Tra i siciliani E la Fortitudo Bologna Per quanto riguarda La salvezza Invece a due gare Dal termine L'obiettivo è stato raggiunto Per ora Solo da 100 A Nardò Basterebbe una vittoria Per avere la certezza Della permanenza in A2 Mentre Chiusi Si aggrappa All'ultima speranza Concessa dalla matematica Già retrocesse invece A Grigento Latina e Roma Resta da ufficializzare La formula Del prossimo campionato Che accoglierà Brindisi e Pesaro Retrocesse dalla A1 Ci saranno 20 squadre In girone unico Con due promozioni E tre retrocessioni Possibile che torni La promozione diretta Per la prima classificata Con la seconda promozione In paglio Con i play-off Per quanto riguarda Le retrocessioni L'ipotesi è quella Di una discesa diretta Per l'ultima in classifica E dei play-out Per decidere Le altre due squadre Relegate in Serie B Si attende Il prossimo consiglio federale Per avere certezze E' tutto anche per questa edizione Del nostro telegiornale Come sempre Grazie per essere stati con noi Un buon proseguimento Con i nostri programmi Arrivederci Grazie per aver guardato i nostri programmi